Popolo di Striscia, rieccoci qui a San Andreas in provincia di Napoli con un ospite d'onore, il Cabibbo! Uè, Bucchi, da Gimatt! Questa oggi è a bordo della nostra Striscia Mobile, vedremo chi non rispetta le regole della strada! Dai, andiamo, Luca! A few moments later... La casa senza scuole, con mia volle, con un po' particolare, l'invernierà di notte, lato tu... Signora Bethes, stia giù! Basta, basta, ce ne andiamo, ce ne andiamo! Basta, basta! Da Napoli è tutto a voi in studio! MULAIA! 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 Sì, non puro dire MULAIA! 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 M